Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi parliamo di distanze e anticipo. Allora ragazzi, come al solito, prima di iniziare, se sei un esperto di simracing ti invito a continuare a guardare il video malgrado sia destinato ai principianti, così potrai lasciarmi un commento qui sotto per darmi suggerimenti, per migliorare questi contenuti ed eventualmente correggermi se ho detto qualcosa di sbagliato. Allora ragazzi, ci siamo, parliamo di distanze. Le distanze nel simracing sono di fondamentale importanza per la gestione delle gare. Questo è a corredo di quello che ho appena detto in questi ultimi due video, parte 1 e parte 2, per quanto riguarda la gestione di gara. Ne avevo già parlato in un video precedente di qualche anno fa, ma non avevo mai approfondito il discorso. Questi sono dei concetti che si apprendono, ovviamente con la pratica, oppure con semplicemente la logica, perché alla fine si tratta di matematica. E per farvi capire qual è l'importanza della gestione delle distanze, prendiamo un esempio. Poniamo il caso che siamo su un'auto, una GT3, su un lungo rettifilo e stiamo inseguendo il nostro avversario con due decimi di secondo di ritardo. Quindi a quella velocità siamo a circa 16,67 metri di distanza l'uno dall'altro. Cosa succede? Che per ovvietà di cose si arriverà al punto di staccata. Il nostro avversario stacca sempre a 125 metri e davanti a noi si aprono due scenari. Il primo è quello di decidere, e questo è erroneamente, di frenare allo stesso punto, quindi a 125 metri. Che cosa succede? Succede che se lo facciamo non teniamo in considerazione degli elementi che vengono a perturbare, la prima cosa, le performance frenanti della nostra macchina. Perché quando si entra in scia di un'auto, cosa succede? Viene meno la resistenza dell'aria davanti a noi che ci permette di aumentare il downforce, quindi la pressione della macchina sull'asfalto. E quindi aumentarne la capacità frenante. Perché? Perché l'aria la sta rompendo chi sta davanti a noi. Seconda cosa, aumenta la nostra velocità. Si chiama anche aspirazione, proprio perché dà questa capacità di velocità in più alla nostra auto. E soprattutto un altro elemento di fondamentale importanza che non viene tenuto in considerazione, il fattore umano. Cioè la reattività che hanno gli esseri umani. Mediamente una persona sana e diciamo allenata ha un tempo di reazione che va dai 2 ai 2 decimi e mezzo. Quindi mettiamoci in mezzo, 2 decimi e mezzo, ad una velocità di 300 km orari rappresenta praticamente 20.83 metri percorsi in quella fragette di 2 decimi e mezzo. Se la mia distanza con il mio avversario a 125 metri in cui inizia a frenare è di 16,67, fate 20.83 meno 16,67 che era la nostra distanza e otterrete 4,16 metri oltre. Cioè vuol dire che siccome una macchina GT è più o meno lunga 4 metri, 4 metri e mezzo, vuol dire che sto andando a stringere la mano al mio avversario. Quindi vuol dire che l'ho tamponato ragazzi. Quindi sarebbe opportuno scegliere lo scenario 2. Cioè quello di anticipare la mia frenata di quanto? 10, 15, 20 metri. Questo dipende dalla vostra esperienza. Bisogna provare ragazzi. Quindi mi prendo una distanza safe per iniziare di 20 metri, 125 lui, 145 io. Tanto che cosa succede? Tra il tempo di reazione, ok, quindi sono già 20 metri, ok, vuol dire che tra il mio tempo di reazione, il fatto che la mia macchina ha meno potenza frenante, alla fine mi ritroverò comunque al ridosso del mio avversario. Siccome il mio punto di staccata è più lontano rispetto a quello che è il normale punto di staccata, otterrò anche un altro beneficio. La possibilità è di gestire la mia frenata in modo diverso, più tranquilla e controllata. Avrò una visione diversa anche di quella che è la curva che sta arrivando, quindi la posso affrontare in modo molto più serena. E quindi avrò anche la possibilità di studiare eventualmente quali sono gli errori che commette il mio avversario o cosa lo mette sotto pressione. Quindi ho la possibilità di preparare anche la mia curva in uscita e anche capire le distanze che percorro prima di eventualmente effettuare un attacco sempre in staccata. Quindi anticipare e gestire le distanze vi offre tutto di positivo perché nello scenario 1 gli andate addosso e la gara è finita e non vi sto qui a spiegare tutte le conseguenze. Quindi direzione gara, gara rovinata, ci si arrabbia eccetera. Quindi ragazzi gestione delle distanze mi raccomando. Una cosa che vorrei aggiungere è che in queste situazioni molte volte, non so se vi è già capitato, a me tantissime volte lo apprezzo tantissimo, chi vi sta davanti un po' prima della frenata, tipo dal punto di staccata a una ventina di metri, dà un colpettino di freno che accende gli stop. Questo serve fondamentalmente per tre cose. Nella vita reale so che per riallineare le pasticche, per riaverle al proprio posto e avere massima performance sulla frenata. Molti piloti lo fanno anche per capire dov'è il punto di attacco della frenata. Questo si usa anche nel sim racing. Il fatto di attivare gli stop dietro ti allerta e ti passa il messaggio. Ehi, attenzione che sto per frenare. Siamo arrivati al punto di staccata, quindi stai statta a corto amico mio perché bisogna frenare e così evitiamo l'incidente. Quindi è un qualcosa che mi piace pensare che sarebbe figo poter mettere in pratica così si eviterebbero tanti tamponamenti inutili. Quindi ragazzi mi raccomando anticipate le frenate e occhio alle distanze. Detto ciò spero che questo video vi sia piaciuto, quindi vi invito a lasciare un pollice in su. Ricordatevi di lasciare un commento qui sotto ragazzi così da poter arricchire questi contenuti. E ovviamente vi invito ragazzi ad iscrivervi al canale. Questa è Fabrizio è tutto, un abbraccio. Ciao.